Buongiorno, buona domenica e soprattutto buona giornata dei morti a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è la giornata dei morti e per onorare e soprattutto per ricordare bene questa giornata, dobbiamo giudicare le partite dei singoli di ieri. Oggi è il giorno dopo di Inter-Parma, ieri l'Inter ha pareggiato 2-2 in casa contro il Parma, la partita l'ho già commentata, ma oggi è la giornata delle pagelle ed è soprattutto la giornata ufficiale delle bocciature, perché oggi, dopo il deludente pareggio di ieri, bisognerà bocciare un po' di gente. Ma partiamo con ordine. Andanovic, 5,5, prima bocciatura, purtroppo devo bocciarlo perché, sì, ok, nel primo tempo, un po' come contro il Genoa, un po' come contro lo Shakhtar Donetsk, che è stato uno spettatore non pagante, non è mai stato impegnato, però nel secondo tempo, soprattutto in occasione del secondo gol di Gervinio, secondo me poteva fare meglio perché Gervinio è finito a tu per tu con lui e la palla gli è passata sotto il braccio, poteva fare molto di più. In occasione del primo gol non gli posso fare nessuna critica perché obiettivamente Gervinio ha segnato un gol spettacolare, mi ha ricordato un gol di Van Basten, però tutto sommato poteva fare meglio in occasione del secondo gol. Quindi 5,5. Passiamo al reparto difensivo, Ranocchi a 6. Ranocchi ha fatto una partita sufficiente, ha quasi segnato il gol del pareggio su calcio d'angolo. Tutto sommato ha fatto una partita normale nel primo tempo, il suo compito era quello di controllare Cornelius nel primo tempo e inglese nel secondo tempo, e tutto sommato l'ha fatto bene, partita sufficiente, quindi un 6 non glielo toglie nessuno. De Vrij, 5. De Vrij è deludentissimo, una delle partite più negative da parte sua da quando è arrivato all'Inter. Ha sulla coscienza tutti e due i gol di Gervinio, soprattutto il secondo gol perché gli è scappato sul filo del fuorigioco e lui proprio non ha saputo tenerlo. In occasione del primo gol l'ha tenuto in gioco e non è salito in tempo. Sul secondo gol se l'è completamente perso, è sempre stato abbastanza lento anche in fase di impostazione, quindi un'insufficienza pure grave oggi se la merita. Voi sapete, io ho sempre parlato bene di De Vrij, continuo a credere che sia un grande difensore centrale, però io voglio sempre essere onesto con tutti e quindi ieri non mi è piaciuto, gli do un 5 chiaro e netto. Insufficiente, caro Stefan. Kolarov, sei. Ora voi mi criticherete perché ragazzi, Kolarov ieri è stato criticato da tutti, ma ok. Kolarov in quella posizione là, soprattutto nel derby, soprattutto col Borussia Mönchengladbach, non è piaciuto a nessuno. Ok, siamo tutti d'accordo, però mi potete cortesemente dire che colpa c'ha Kolarov sui due gol del Parma? Kolarov ieri ha fatto secondo me una partita buona, ha fatto una partita sufficiente, ha fatto il cross decisivo per il pareggio di Persic, ha fatto delle belle aperture che a momenti vanno a far segnare a Kimi. Quindi mi potete dire perché criticate Kolarov per la partita di ieri quando Kolarov non ha nessuna colpa sui due gol del Parma? Perché ve lo ripeto, il principale responsabile dei due gol del Parma è stato De Vrij. De Vrij si è totalmente perso Gervinio, Kolarov non c'entra niente sui gol del Parma. Cosa c'entra Kolarov? Me lo potete spiegare. Ieri ha fatto una buona partita, quindi non sai se lo merita. È un giocatore di 35 anni, quindi non può fare bene tutte le partite, soprattutto non può partire titolare in tutte le partite. Però ieri non voglio bocciarlo perché secondo me ha fatto una buona partita. Datemi del pazzo, ma io la vedo così. Ha fatto il cross decisivo, un po' dei bei lanci li ha fatti. Poi non è un fulmine di guerra in fase di marcatura, questo lo sappiamo già, l'ho già criticato dopo la partita col Milan, l'ho già criticato dopo la partita col Borussia, ma ieri per me non ha fatto male. Quindi sei. Passiamo al centrocampo, passiamo al centrocampo. Qua c'è da mettersi le mani nei capelli proprio, c'è da buttarsi giù dal balcone. Gagliardini, 5, come il suo numero di maglia. Gagliardini è partito titolare dopo diversi mesi, non so perché lui è follemente innamorato di Gagliardini. Pure ieri l'ha fatto partire dal primo minuto quando Gagliardini è tornato a disposizione ben tre giorni fa. Nainggolan è tornato molto prima, Nainggolan l'ha fatto entrare solo nel secondo tempo, solo nella seconda parte del secondo tempo. Quando proprio era obbligato a recuperarla questa partita. Ma Gagliardini ha fatto una partita mediocrissima, ma non voglio puntare il dito solo contro di lui. Gagliardini è un giocatore mediocre, è un giocatore limitato, è buono solo a randellare ma neanche più di tanto perché ieri comunque non ha dato neanche sostanza al centrocampo. È partito in certi momenti della partita, è partito pure dietro le punte, vedete come siamo ridotti male. E ha sprecato totalmente un'occasione favorevole che l'ha sparata proprio fuori. Quindi 5, 5 non va bene, ma ripeto non voglio puntare il dito solo contro di lui. Voglio puntare il dito principalmente contro chi lo ripresenta giornata dopo giornata ed è follemente innamorato di lui. Questo penso sia tutto sommato incredibile e assurdo perché hai molte soluzioni a centrocampo e decidi di partire con uno dei più limitati. Incredibile, 5 però. Barella, 6. Barella nel primo tempo mi è piaciuto molto. Ha fatto un assist bellissimo a Persic dopo un minuto che Persic l'ha sparata nel parcheggio. Però è un po' ingenuo, ha commesso delle ingenuità. Per esempio ha fatto dei falli evitabili. Uno me lo ricordo bene verso la fine del primo tempo che è andato inutilmente a travolgere il giocatore del Parma. Però gli voglio dare la sufficienza perché una partita secondo me positiva e normale l'ha fatta, al contrario dei suoi compagni di reparto. Poi anche lui ogni tanto commette delle leggerezze. Però lui, al contrario di un altro suo collega, che poi ne parleremo per bene perché mi ha abbastanza rotto le palle. Scusate il termine abbastanza crudo ma bisogna essere chiari. Lui la grinta e l'impegno ce lo mette sempre. Pure ieri non ha fatto una delle sue migliori partite, però l'impegno ce l'ha messo e soprattutto ce l'ha messo grande cattiveria. Quindi Barella 6. Poi, poi, Hakimi 5,5. Hakimi ha fatto un po' la stessa partita che ha fatto contro Shakhtar Donetsk. Bene nel primo tempo perché ok che ha sprecato un po' come contro il Milan un'occasione fondamentale su un bellissimo cross di Kolarov. Però, tutto sommato, ha provato a creare la superiorità numerica. In due o tre occasioni ha totalmente bruciato i difensori del Parma in velocità. Quindi ha fatto una partita un po' a due facce. Molto bene nel primo tempo perché è l'unico che ha creato la superiorità numerica. Nel secondo tempo è completamente scomparso. Bisogna essere onesti. Nel secondo tempo poteva fare meglio. Doveva fare meglio. Ha fatto degli errori tecnici evitabilissimi per un giocatore del suo talento. Perché, per esempio, ha fatto un controllo per aver perso un pallone incredibile sulla fascia. Si è fatto anticipare un po' di volte. Si è fatto fermare da gagliolo. Nel secondo tempo quindi gli do 5,5 che è un po' la media tra il 6,5 del primo tempo e il 4 della ripresa. Quindi deve un po' crescere pure se continuo a credere che sia un grande giocatore. Però 5,5 perché non mi è piaciuto più di tanto. Darmian, 5,5. Darmian ha fatto una partita in colore. Tutto sommato non si è confermato dopo le due brillanti prestazioni contro Genoa e Borussia Mönchengladbach. Ieri dal centrocampo in giù non è stato particolarmente impegnato. Anche perché il Parma nel primo tempo non ha mai superato il centrocampo. Nel secondo tempo, quando doveva fare un po' la differenza dal centrocampo in su, poca roba, poca cosa. Io vi do questo consiglio. Non giudicate un giocatore dopo due partite. Darmian è un giocatore normalissimo. Non è un brocco scandaloso, ma non è neanche Javier Zanetti o Giacinto Facchetti. Quindi, cortesemente, non giudicate un giocatore. Perché il problema di questo paese è che si giudicano i giocatori dopo tre partite. Questo è il problema. Lautaro rientra in questo discorso. Cioè, un giocatore fa tre partite decenti, grande acquisto, grande giocatore, fenomeno, nuovo fuoriclasse, nuova stella della squadra. Rimanete calmi nel giudicare tutti, non solo Darmian. Darmian tutti l'hanno un po' pompato dopo le prime due partite. Rimanete calmi perché Darmian ha tutto da dimostrare e non è che abbia fatto granché negli anni passati. Quindi andateci calmi, chiaro, andateci piano. Qui però, cinque e mezzo, Darmian. Ericsson, Ericsson, ho bisogno di imitarlo un po'. Ericsson è così, così, così. Faccio il tutorial, così. Così, potete pure guardare, così. Darmina, ballerino, così. Roberto Bolle, il Roberto Bolle danese. Prestazione inguardabile. E voglio essere generoso, gli do tre, ma meriterebbe zero. Cioè, inguardabile, un fenomeno delle chiacchiere. E' bravo solo a parlare, solo a criticare Conte, solo a criticare la squadra. Poi però, quando deve dimostrare il suo valore in campo, sparisce. Ieri è sparito, zero. Inguardabile, e mi ha abbastanza lotto le palle. Perché io sono buono e caro, ho sempre voluto dare tempo a tutti. Ho sempre voluto concedere una seconda opportunità a tutti. A tutti, pure ai giocatori più scandalosi. Questo qua continua, continua ad avere occasioni e continua a buttarle tutte nel cesso. Cioè, ieri pure là, la partita è cambiata quando l'ha sostituito. Un po' come contro il Genoa. Lo va a sostituire e la partita va a cambiare. È incredibile, cioè, ma inguardabile. Cioè, ha la stessa grinta di un bradipo. Ci mette lo stesso entusiasmo che ci mettevo io il lunedì mattina quando entravo in classe al liceo. Uguale, stessa grinta, stesso entusiasmo, stessa volontà. Zero proprio, inguardabile. Ed è un problema grossissimo. Perché tutti, nei mesi scorsi, hanno criticato Conte. Hanno detto che lui lo sta rovinando. Che è un giocatore sprecato. Che non può rimanere in panchina a marcire. Tutti questi ragionamenti qua. Bene. Conte, in questa prima parte della stagione, l'ha spesso fatto partire il titolare. Gli ha spesso concesso delle opportunità. E lui ha sempre dato delle risposte non deludenti. Super deludenti. Ieri tre. Tre. Ripeto. Tre in pagella. Il Roberto Bolle. Abbiamo il sosia di Roberto Bolle. È un ballerino momentaneamente. Non è un giocatore da Inter. Ora come ora. Poi si ritrova alla condizione dei tempi del Tottenham. Benvenga. Ma ora come ora partire con lui è come partire in inferiorità numerica. È un fantasma. Ieri ha vinto il premio come il miglior fantasma della notte di Halloween. Insieme al suo amico Lautaro, che poi ne parliamo bene. Tre. Tre. E voglio essere gentile. Tre. Ma lascia stare, va. Perisic. Perisic. Cinque. Perché, ora, cioè... A me fanno ridere certi commenti. Ho visto dei commenti folli. Cioè, criticatelo. Oggi ci ha fatto pareggiare. Non criticatelo. Ci ha segnato il gol del pareggio. Non ci ha fatto perdere lui. Ma siete seri. Siete seri. Ha dormito per 91 minuti. Ha dormito. Poi sì, Colaro vi ha messo un cross sulla testa e lui l'ha buttata dentro. Ma per il resto è stato vergognoso. Ha fatto una partita da tre. Tre. Il suo voto sarebbe tre. Gli do cinque solo perché ha segnato quel gol lì. Ma non è che un gol segnato va a cambiare il giudizio sulla sua partita. Gente, gli ha dato sei. Gli ha dato sei giornalisti che gli danno sei. Ma io mi faccio questa domanda. Ma voi, prima di dare i voti, le riguardate le partite? O date i voti così? A partita appena finita. Solo perché uno va a segnare un gol e allora cambiate il giudizio. Ha fatto una partita da tre. Una partitaccia ha fatto. Dopo un minuto su un bellissimo assist di Barella. Ha sbagliato un gol fatto. Cioè, si è liberato bene. Una porta di otto metri. Solo tu per tu l'ha sparata al secondo anello. Di che parliamo? Poi Occhio lo ha cambiato di ruolo. Lui lo fa sempre partire in delle posizioni strane. Prima esterno nel 3-5-2 a tutta fascia. Ieri l'ha fatto partire seconda punta accanto all'Ontaro Martinez. E' leggermente migliorato quando l'ha spostato sulla fascia negli ultimi metri. Cioè, non a tutta fascia. L'ha spostato sul centro-sinistra. E ha fatto una partita normale. Però, primo tempo 0. Secondo tempo 4. Cioè, partita deludente pure a parte sua. Non gli do un'insufficienza grave solo perché ha segnato quel gol. Ma comunque un 5-5 non glielo toglie nessuno. 5 perché cambia giudizio a seconda di un episodio. Torniamo seri per cortesia. Lautaro. Lautaro. 3. Stesso voto di Eriksen. No, è incredibile. Una cosa... Ha sulla responsabilità, come devrai, il gol di Gervinio. Perché ha fatto una cosa troppo brutta, per essere anche commentata. Ha perso palla e non ha neanche rincorso l'avversario. Non ha neanche la forza di rincorrere gli avversari in questo momento. Ha fatto un liscio imbarazzante 3 minuti prima del gol di Persic. Dove un attaccante anche di terza categoria va a colpire in porta. Lui fa un liscio da mai dire gol. Totalmente fuori dalla manovra. Totalmente svogliato. Totalmente molle. Questo è Lautaro Martinez? Questo è il giocatore che noi dobbiamo pagare 7 milioni netti all'anno? 7 milioni? Vuoi 7 milioni? Vuoi l'aumento dell'ingaggio? Te lo do io l'aumento dell'ingaggio, caro Lautaro. Fuori. Questo è l'aumento che ti do io. L'aumento di palle che mi stai facendo oggi fare. Questo è. Partita inguardabile. Tu sei così. Ma ormai... Io ti ho perfettamente inquadrato. Cosa fai tu? Tutti gli anni, eh? L'anno scorso partenza bomba. Gol col Torino. Gol col doppietta Praga. Gol col Barcellona a Barcellona. Partenza strepitosa. Nuovo fenomeno. Nuovo Tevez. Nuovo Aguero. Nuovo titolare dell'Argentina. Nuovo Milito. Tutti questi paragoni folli. Ti pompi la testa. Seconda parte della stagione. Per tre mesi non hai visto la porta neanche col cannocchiale. Ti sei leggermente ripreso in Europa League solo nella partita con lo Shakhtar. Perché poi in finale, nella partita decisiva, non hai visto la palla. Quindi cortesemente datti una svegliata. E poi evita di fare certe sceneggiate come quella che hai fatto a Genova. Che l'allenatore ti sostituisce. Così fai a fare il cinema. Qua devi dimostrare sul campo il tuo valore. La cattiveria, il nervosismo, l'incazzatura la devi mettere nel campo. Non in panchina quando l'allenatore ti sostituisce. Quindi tre. Come al tuo amico Ericsson. Voi tu Ericsson ieri avete vinto il premio come i migliori fantasmi della notte di Halloween. Voi avete vinto a mani basse e potrebbero girare un nuovo film proprio tutto per voi. Tre. Tre. Inguardabile. Parliamo dei subentrati. Brozovic sei e mezzo. Brozovic ha cambiato la partita. Ha segnato quel gol che ha suonato la carica. Niente di eccezionale per il resto. Un po' di errori li ha fatti. Però ha sostituito un Ericsson scandaloso. E non l'ha fatto rimpiangere non che fosse difficile. Però intanto ha segnato quel gol che è un po' di brio, un po' di vivacità all'Inter. La data che dopo il gol di Gervinio all'Inter sembrava proprio con la lingua a terra. Lui l'ha un po' rianimata pure se non è nel suo momento migliore. Però è pur sempre meglio di questo Ericsson. Questo fuori dubbio. Poi Vidal sei. Vidal è entrato in campo. Ha messo cattiveria. Quindi anche se un errore l'ha fatto che l'ha sparata pure lui nel parcheggio. Però è andato vicino ad assegnare il gol del 3-2 all'ultimo secondo. Io a Madrid lo farei parte del titolare. Gli do sei perché più di così era difficile fare. Poi Nainggolan cinque. Nainggolan è entrato, ha fatto un tiro che definire ridicolo, definire scandaloso e definire patetico. Penso sia a dir poco. Ha fatto un tiro che è finito nel po'. Nel po'. Sapete, nel po'. L'ha tirata nel fiume. Ha fatto poi un altro errore che a momenti fa rimpartire il Parma in contropiede. Poi sì, è meglio di Gagliardini. Però il modo in cui è entrato in campo non mi è piaciuto. Poi io l'avrei fatto partite di isolare. È difficile giudicare un giocatore dopo quando entra in una fase così caotica della partita. Però Brozovic la partita l'ha cambiata. Lui mica tanto. Quindi cinque. Voglio essere gentile. Pinamonti. Sei per la buona volontà. Pinamonti non è Ronaldo il fenomeno. Non è un giocatore fenomenale. Su questo ce ne siamo accorti. Perché se fosse un nuovo talento, un nuovo fenomeno del calcio italiano, non sarebbe tornato all'Inter per pietà. Il Genoa se lo sarebbe venuto. Ha fatto cinque gol col Genoa l'anno scorso. Partendo dal suo primo punto. Però ieri, al contrario di tanti altri, che guadagnano il triplo di quello che guadagna lui, lui, l'impegno, la voglia, la determinazione, la cattiveria, ce l'ha messa. Si è guadagnato il fallo che ha portato al pareggio di Perisic. È momentaneamente l'unica punta di ruolo che abbiamo. E qua voglio tirare le orecchie al signor Marotta. Perché il signor Marotta non ha pensato a un'alternativa a Lukaku. Ieri ha parlato del VAR, giustamente perché questi errori del VAR iniziano a stufare. Perché ieri c'è un rigore grosso come una casa su Perisic. Che se mi dè quel rigore, la partita la va a cambiare da così a così. E c'ho 20 minuti in più per vincerla. Chiuso a parentesi. Però, comunque, gli do sei per la buona volontà. Non è colpa sua. Young 5 e mezzo. Perché Young è entrato al 75esimo. Un po' così. Un po' lento. Un po' macchinoso. Poteva fare molto di più su quella corsia lì. Quindi gli do 5 e mezzo. E a Conte do 5. Do 5 perché io non voglio il suo esonero. Prima di tutto perché la storia dell'Inter ci insegna che tutti i cambi a stagione in corso. Eccetto Leonardo. Eccetto Leonardo che ha sostituito Benitez. Ha ripreso in pugno lo spogliatoio. E ha cambiato il rendimento della squadra. Ma poi tutti gli altri cambi nella storia dell'Inter hanno sempre portato frutti negativi. Non hanno mai portato i risultati. Lo dice la storia. Non lo dico io. Quindi non sono per esonerarlo. Però sono per fargli un bello shampoo. Al parrucchino. Se dobbiamo trovare una battuta. Perché è in confusione totale. Totale. Ieri è partito. Con una difesa. Vabbè. Due centrali. Puoi far partire. Sei partito. Far la difesa a quattro è un reato costituzionale. Non lo puoi fare. Kolarov come terzino. Quando deve fare le aperture. Le fa perfettamente. Perché non lo fa in partire nella sua posizione. Eppure se ieri Kolarov non è stato il colpevole su The Goal del Parma. Solo chi non capisce niente può fermare il contrario. Però l'ho visto in confusione totale. Ha scambiato Hakimi con Darmian. Poi li ha rimessi nella posizione di prima. Poi fa entrare nel secondo tempo. Dopo aver preso il gol. Non gli fa entrare subito. Fa entrare gli unici centrocampisti che possono cambiare la partita. Fa partire Gagliardini. Fa partire Perisic nuovamente fuori ruolo. Pinamonti dal primo minuto sarebbe stata una scelta così folle. Pinamonti per te evidentemente conta come il 2 di spade quando la briscola a bastoni. Evidentemente. Perché non capisco come mai l'hai fatto entrare solo a partita in corso. Quindi ti do 5 caro Antonio. Sei in confusione totale. Ora però tutti e tutti sono contro di te. Martedì c'è una partita determinante. Fondamentale per il nostro futuro in Champions. Corre al Madrid. Ti voglio vedere lì. Là sarà un test fondamentale per il tuo futuro. Perché se tu vai a Madrid e ti metti a fare l'arrogante. Quelli ci massacrano. Vai là a perdere. Se fai l'arrogante. Tu devi farti un bel bagno di umiltà. Devi cercare di capire gli errori che stai continuando a ripetere partita dopo partita. E devi soprattutto fare le cose semplici. Pure ieri fai cose difficili. Metti i perdici in posizioni strane. Colaro. Fai scambiare Akimi e Darmian. Fai partire Gagliardini. Errori proprio gravi. Quindi ti do 5. Non sono per esonerarti. Però sono per darti una bella... Una bella... Una bella... Come si dice? Una bella ramanzina te la farei. Chiaro e tondo. Fossi Steven Zhang. Poi. Parlando di Marotta. E poi chiudiamo. Perché ho già superato i 20 minuti. Marotta ieri si è lamentato del VAR. E voglio parlarne molto velocemente. Caro Marotta. Tu a livello tecnico hai delle responsabilità. Pure se ho sempre parlato bene di te. Continuo a credere che tu sia un bravissimo dirigente. Però il non aver pensato a un vice Lukaku. È una macchia incancellabile. Sull'operato di quest'estate. Perché si è visto ieri. Se non c'è Lukaku non buttiamo la palla dentro. Neanche se viene giù la madonna. Questo è un dato oggettivo. Poi vai a parlare del VAR. Io voglio capire questa cosa. Il VAR può intervenire solo in caso di chiarissimo errore. Cioè chiarissimo errore cosa vuol dire? Gli deve staccare la testa per fischiare rigore? Gli deve sparare in faccia? Cosa vuol dire chiarissimo errore? Non mi è ben chiara questa definizione. Quello su Perich è un errore chiarissimo. Perché quello là lo va a buttare giù con due braccia. Rigore ed ammunizione. Va sul 2 a 2 e la partita può cambiare. Ma il VAR deve cambiare. Perché non è il primo errore. Sia contro di noi che contro altre squadre. Perché pure in Milan-Roma ne hanno combinate di cotte di crude. Cioè devono cambiare. Non va bene in questo modo il VAR. Se c'è il VAR deve correggere tutti gli episodi dubbi. C'è un episodio dubbio? Poi l'arbitro è libero di decidere quello che vuole. Ma vallo a richiamare almeno. Il rigore superge. Richiamalo. Fallo andare a controllare. Cosa stavate facendo al VAR? Stavate facendo una partita briscola? Ve lo domando. Comunque. Martedì andiamo a Madrid. Coltello tra i denti. Umiltà. Ritroviamo la giusta umiltà. Perché sembra una squadra in confusione. Mi sembra una squadra di gente molle e arrogante. Ericsson su tutti. Ericsson potrebbe essere il degno capitano di questa interscarica e molle. Andiamo a Madrid a giocarci le nostre carte con umiltà. Ricordiamo. Umiltà. Questa è la parola d'ordine che dobbiamo ritrovare. Perché non siamo una squadra umile. Siamo una squadra sfilacciata. Caotica e in confusione totale. Questo siamo noi in questo momento. Forza Inter. Ci sentiamo domani per il video pre-partita. Amala. E collegatevi su Facebook stasera.